Certo, mi dispiace la morte di un essere umano, quindi non potrei essere contento in tal senso. Mi dispiace anche dal punto di vista politico, perché credo che buona parte della strategia, non solo della comunicazione, ma politica del Movimento 5 Stelle, sia opera di casaleggio che inevitabilmente, insieme a Grillo e al Movimento 5 Stelle, hanno un po' rivoluzionato il modo di fare politica. Adesso che possa piacere o meno, io parlo da cittadino, qualcosa è sicuramente cambiato grazie al Movimento 5 Stelle, cosa che non è successa con gli altri partiti che si sono succeduti in questi 50 anni. Loro hanno effettivamente portato una ventata di novità, questa è assolutamente una valutazione oggettiva. L'ho sentito per radio mentre stavo in macchina, effettivamente non sapevo che era malato. Se mi chiedi se cambierà qualcosa dopo la morte, penso che qualcosa cambierà. Però ho notato che comunque il Movimento sta avendo una sua autonomia col tempo e credo che possa andare avanti da solo, sia senza Grillo sia senza casaleggio. Non avevo grande simpatia del personaggio. Mi dispiace per la persona e per i familiari. Cambierà probabilmente qualcosa perché era una persona importante all'interno della struttura di controllo dei 5 Stelle. Spero che cambi meglio, che si rassereni un po' quell'ambiente perché potrebbero fare molto di più. No, sinceramente non mi interessa particolarmente. Penso che non cambierà molto nella politica italiana e neanche nel 5 Stelle. Insomma, non so tanto quanto potrà cambiare. No, qualcosa cambierà perché naturalmente le radici nascono da là. Però credo che ci siano persone abbastanza competenti, in grado di portare avanti il Movimento. Ho visto che è stata annullata la serata oggi, forse il motivo è questo. Ma cambierà qualcosa? Questo non lo so. Credo e spero che il Movimento 5 Stelle riesca comunque a mantenere questa sua voglia di fare, questa trasparenza nella comunicazione. Mantenga quelle che sono le regole che si sono date e che effettivamente stanno portando avanti. Sicuramente la lungimiranza di Casaleggio mancherà al Movimento 5 Stelle, ma diciamo che mancherà all'intera politica italiana. Questo credo sia in dubbio.